La città quotidiano della provincia di Terabo si regionalizza e diventa quotidiano d'Abruzzo. Dal primo maggio, nelle edicole dell'intera regione, gli abruzzesi troveranno questo nuovo prodotto editoriale con il suo inconfondibile logo e con tante pagine dedicate alle quattro province, alle notizie nazionali, allo sport, alla cultura, un occhio particolare anche all'economia, alle aziende e al lavoro. Non è casuale la scelta della data del primo maggio per questa rinnovata ripartenza. È una nuova sfida, è una nuova bella vittoria quella che possiamo dire di portare avanti in un momento in cui la carta stampata, come è noto, ha un flusso non proprio positivo. Ecco, l'editore Gian Piero Ledda crede nella carta stampata, crede nell'informazione cartacea ed è per questo che abbiamo deciso di fare un passo in avanti, oltre lo stacolo. E quindi il nostro quotidiano, appunto, da domani, primo maggio, verrà distribuito nell'intera regione Abruzzo, peraltro con un numero speciale dedicato all'Abruzzo che lavora. E chiaramente ci saranno anche le notizie di cronaca come sempre, ricordando che il nostro quotidiano, composto da 40 pagine, si occupa di politica, di attualità, di cronaca nazionale, regionale e ovviamente del territorio, in questo caso della provincia di Terramo, di Pescara, L'Aquila e Chieti. Una cosa importante da sottolineare è che il nostro quotidiano vuole essere un punto di riferimento dell'economia, del territorio e della crescita della regione Abruzzo. Ed è per questo che abbiamo scelto di ampliarci all'intera regione. Abbiamo deciso di portare il prezzo del giornale ad un euro, ma questo perché? Proprio perché sia un'occasione, davvero per tutti, di poter leggere il giornale. Con questo nuovo giornale regionale, l'idea dell'editore della città quotidiano d'Abruzzo, Gian Piero Ledda, è quella di offrire agli abruzzesi pagine che facciano riscoprire il piacere della lettura lenta e ragionata. Nella giornata del primo maggio, il giornale sarà distribuito gratuitamente. Grazie a tutti.